Ascoltavo con molto piacere gli interventi di Stefano Anastasia e Valeria Verdolini e devo dire che sono molto d'accordo con quello che hanno detto. Per quanto riguarda le alternative io credo che sia importante ribaltare un po' questa prospettiva e più che chiederci se le alternative sono praticabili è capire da dove vengono queste alternative che sono già praticate. E provengono da un'analisi che il sistema penale non garantisce tutte le persone allo stesso modo e non protegge tutte le persone allo stesso modo. Per cui questo produce dei margini, produce comunità che sono marginalizzate ed è proprio da queste comunità marginalizzate che si sono cominciate a produrre delle alternative ma in realtà sono sempre esistite. Delle strategie per ridurre la prossimità delle persone con la brutalità, con la violenza che non è solo la violenza interpersonale o la violenza di strada ma è anche la violenza dello Stato in qualche modo. Per cui parliamo di forme di auto-organizzazione in realtà sempre esistite e parliamo invece di quello che dall'inizio degli anni 2000 si è cominciato a diffondere. E cioè le comunità che si occupano di giustizia trasformativa hanno cominciato a buttare giù materiali, un archivio delle proprie pratiche, una diffusione più massiva al servizio di altre comunità che volessero intraprendere gli stessi percorsi che stavano tracciando loro in qualche modo. Dicevamo prima di andare oltre il limite, questo andare oltre il limite è un esercizio, è esso stesso una pratica che spesso non ci concediamo perché anche a partire dai movimenti sociali in qualche modo ci siamo costruiti degli spazi di sicurezza anche all'interno della critica allo Stato, anche all'interno della critica al servizio penale e ci fa quasi paura navigare il tema delle pratiche alternative perché effettivamente sono dei sentieri che non sono stati ancora tracciati e che non necessariamente riescono a garantire la sicurezza delle persone coinvolte in episodi di violenza. Per questo è molto importante quello che già hanno prodotto le comunità marginalizzate, le comunità che si sono affacciate alle pratiche alternative. Dicevamo all'inizio degli anni 2000 abbiamo uno dei primi documenti che è quello di Insight, che è questa organizzazione di donne e persone di genere non conforme che combattono la violenza e che producono un documento in cui analizzano qual era la situazione dei movimenti anticarcerari e analizzano il fatto che appunto la protezione dello Stato non era estesa anche ai margini della società sicuramente, che l'approccio penalizzate non solo era una soluzione a breve termine ma era anche inefficace e quindi fanno presente che questo approccio criminalizzante non ha assolutamente avuto nessuna efficacia appunto nel ridurre o eliminare la violenza nella società. Questo documento analizza anche appunto il fatto che le prigioni non funzionano e d'altra parte però comincia a criticare anche i movimenti anticarcerari tradizionali che spesso non hanno tenuto conto della questione della violenza sulle donne e sulle persone di genere non conforme. Questo cosa significa? Che per la prima volta si parla di femminismo e di abolizionismo in maniera critica mettendo al centro le esperienze e le analisi delle persone che soffrivano la violenza nel quotidiano e che richiamavano anche a un'attenzione sulla questione della violenza interpersonale, cioè non vedere soltanto la questione dell'abolizione del carcere come una questione sistemica, ma cosa della società punitiva penetrava anche in qualche modo nelle relazioni interpersonali sia nel momento in cui la violenza veniva agita ma anche nel momento in cui si cercava una soluzione alla violenza, il senso della giustizia davanti a quella violenza. Oggi esistono tantissimi materiali per cominciare a ragionare su questi temi, uno dei materiali che uso spesso durante i workshop che facciamo rispetto a questi temi, è un quaderno che viene dato alle persone che subiscono la violenza all'interno di alcuni dei rape crisis qui in Gran Bretagna che potrebbero essere equiparati ai centri antiviolenza italiani, in cui si fa una domanda che sembra molto semplice ma non lo è. Che cos'è per te giustizia? Perché la società occidentale ha effettivamente fatto coincidere la giustizia con la punizione e queste due cose si sono fuse indissolubilmente. Quando si va a parlare con le persone che hanno subito violenza, non per tutte le persone il senso di giustizia, l'idea di giustizia è la stessa. Alcune cercano riconoscimento, alcune cercano accountability, alcune cercano punizione, ma altre cercano anche percorsi di responsabilizzazione. Quindi aprire spazi innanzitutto e farsi delle domande più specifiche rispetto al senso della giustizia per le persone, senza assumere che la stessa risposta valga per tutte le persone coinvolte, credo che sia anche uno dei primi passi per cominciare a parlare di punitivismo interiorizzato.